Ciao a tutti, vediamo in questo video quattro segni che un uomo ti ama e ti adora. Il numero quattro potrà sorprenderti. In questo video voglio spiegarti quali sono i quattro segni che indicano che un uomo ti ama veramente, ti adora, vuole stare con te. E' un uomo che ha deciso di intraprendere, diciamo così, un percorso, un cammino con te che ti vede come la donna della sua vita. Allora è importante saper cogliere questi segni per evitare di prendere luciole per lanterne. Prima però iscriviti al canale, ci tengo molto che tu ti iscriva a questo nuovo canale che ha due mesi circa di vita, quindi clicca sul tastino iscriviti e poi attiva la campanella in modo tale che potrai ricevere tutte le notifiche dei nuovi video e non ti perderai nuovi video. E inoltre puoi seguirmi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. E adesso veniamo al dunque, veniamo a quattro segni che un uomo ti ama e ti adora. E' importante, credo, per te coglierli perché eviterai di perdere tempo. Tieni presente questo, quanto tempo hai perso con gli uomini finora? Quanto tempo hai perso? Prova a fare un'analisi della tua vita. Quando parlo di tempo perso, non è che il tempo è quello che abbiamo a disposizione, è un contenitore il tempo, no? Quello che abbiamo a disposizione lo possiamo utilizzare come meglio vogliamo. Quando parlo di tempo perso, parlo di tempo sprecato, diciamo così, in situazioni che non ti portano da nessuna parte, in situazioni che non ti danno nulla di quello che vorresti. Certo, uno vive comunque, ma spesso si vive nell'illusione di un futuro. Pensa, tanto per fare un esempio, a una donna che sta con un uomo sposato, che non si vuole... un conto è se si vuole godere il momento di per sé e non gli frega niente di costruire qualcosa, ma se questa vive nell'illusione. Cioè, oggi sta male perché ho visto ancora la moglie, ma spera in un futuro in cui starà bene perché lui lascerà la moglie e questo futuro non si avvera mai. Sembra sempre che si avvicini, si avvicini, ma poi c'è sempre qualcosa che non si avvera mai. Oppure, che ne so, una donna che è innamorata di un uomo libertino, che spera che questo metta a testa a posto, diciamo così, e voglia sistemarsi con lei. Nulla di male nell'essere libertino, ma se te vuoi una relazione, diciamo, del mulino bianco, passare le serate davanti al camino, per le serate invernali davanti al camino, insomma, abbracciati e coccolati, beh, questo non è sicuramente la persona che fa, non è sicuramente la persona che fa il caso tuo. Eppure, perché ti vai a infilare lì dentro, in quella situazione, perché vai a viverti, diciamo così, situazioni di questo genere, e ci resti? Perché non sai cogliere i segni per tempo? Il problema è non sapere cogliere i segni per tempo, confondere un segno con un altro. Ecco, questo è l'errore, e bisogna superare questi errori, perché altrimenti il tempo diventa tempo perso. Cioè, tempo perso vuol dire che oggi soffro sperando in un futuro migliore, e no, invece tu devi provare il piacere nell'oggi, non nel futuro migliore, che non saprei se arriverà, quando arriverà. Tutte le persone che stanno male oggi, sperando in un domani migliore, stanno perdendo tempo. Bisogna agire nell'oggi. E quindi, certo, un po' di tempo, tra virgolette, per conoscere una persona ci va, ma sono questioni di pochi mesi. Cioè, non può essere che per conoscere una persona di passare un anno, due anni, sperando che faccia questo, che faccia quell'altro. Non va assolutamente bene. Scusate. Però, è importante dire questa, fare questa grande premessa, ma questo devi tenerlo presente. Se tu soffri oggi, sai già che è la persona sbagliata. Ma veniamo ai quattro segni. Allora, il primo segno è quello di fatto più importante, da un punto di vista fattuale. Però, anche qua va preso con gradualità. Lui investe in te. Investe, non nel senso che investe economicamente, magari investe anche economicamente, ma soprattutto investe le cose che lui ritiene più importanti. La prima è il suo tempo, cioè tu diventi una priorità. Se sei sempre al secondo, terzo posto, beh, per dire, vieni dopo il lavoro, vieni dopo la moglie, per dire, vieni dopo i figli, che magari ha. Vieni dopo questo, vieni dopo quello, beh, allora sei la ruota di scorta. Ma, di scorta, della scorta, della scorta. Cioè, un uomo che ti ammette a dore investe in te. Sei la priorità numero uno. Ogni momento libero lo vuol passare con te. Cioè, è lui che fa questo, che cerca. Ogni idea, ogni progetto lo condivide con te. vuole sentire la tua opinione, vuole trascorrere tempo con te, vuole pianificare e mettere in atto delle situazioni. Crescenti, non dico bisogna fare le corse, cioè che ti conosci oggi e domani ti fidanzi, dopodomani vai a convivere, e la settimana dopo ti sposi, e quella dopo ancora mettiamo in un figlio. No, non è così. Però, in un tempo, diciamo, ragionevole, che sia quello che può andare da sei mesi a un anno, decidi di andare a fare una convivenza, di fare qualcosa, un matrimonio, oppure anche, magari, ci sono persone che per carità vogliono mantenere le relazioni a distanza, ma ufficializzate. Se tutto questo avviene intorno ai sei mesi, diciamo così, massimo un anno, ma deve avvenire un passaggio graduale, non un, come dire, un passaggio che non sia graduale. Cosa vuol dire un passaggio graduale? Vuol dire che deve avvenire un qualcosa sempre in crescendo. Questo è importante, perché altrimenti, se così non è, non ci sono altre possibilità. Sempre mantenendo la propria individualità, il che non vuol dire diventare, stare in simbioso. Ognuno deve avere la sua individualità, le sue cose, tutto. Però, diciamo, prendere un impegno crescente vuole investire in te. Ecco, questo è quello fondamentale. però ci sono anche altri, perché vanno tenuti presenti anche altri, perché da solo questo non sarebbe sufficiente, perché ci sono anche molte persone possessive che vogliono questo. Infatti, il secondo è... il secondo punto è che ti accetta per come sei, non vuole cambiarti, e anche le cose che tu ritieni essere dei difetti, tutto sommato, gli piacciono. Quindi, non vuole cambiarti, il che significa che se tu ami, per dire, che ne so, andare a fare un corso di ballo, e lui no, beh, non è che è geloso, possessivo, diciamo, ti accetta come sei e ha fiducia in te. Quindi, la fiducia significa che non è gelosia, significa che non è attaccamento, perché altrimenti quello non è più... non ha più nulla a che vedere con l'amore, diventa un qualcosa di completamente diverso. Il terzo è fondamentale, sono le cose che dice, il linguaggio non verbale e le cose che fa sono tutte tre allineate. Cioè, se ti dice ti amo, intanto non te lo dice, ah sì, ti amo anch'io, ciao, idem, oppure tu ti scrivi ti amo, lui ti dice ti amo, lui ti dice idem. No, lo dice in modo sentito. Non dico come quasi si direbbe una preghiera, però il ti amo deve essere qualcosa di molto sentito. E' meglio se il non verbale è allineato. Ti amo. Ecco, questo con un segnale di gradimento non verbale allineato prima o dopo è molto utile perché fa capire che la parte logica, il ti amo detto logico, che può essere, però già lo senti il pathos che viene trasmesso mentre lo dice. Questo la dice anche lunga perché un conto è dire ti amo, sì, anch'io ti amo, un conto è dire ti amo. proprio in modo sentito e se c'è un segnale di gradimento abbinato, beh, è il top. Da quel punto di vista lì è molto poco probabile che non sia reale, che stia bleffando. Però poi ci sono anche segni tangibili dei fatti, cioè quelli che ti dicono sto con mia moglie ma amo te. questa è la cosa più assurda e ce ne sono, io ne sento tanti che dicono ah mi ha detto che ama me ma sta con la moglie ma ama me. Ecco, questa è la cosa più assurda. Non è vero, se sta con la moglie ama la moglie, metteteli in quella testa, se sta con la moglie ama la moglie, non ama te. Questo è un qualcosa che sento spesso e lo trovo tutto sommato abbastanza ridicolo, eppure eppure si trova, si trova persone che hanno questa, che dicono questa cosa qua e chi ci crede anche, c'è anche chi ci crede. Adesso veniamo al numero 4 che ti sorprenderà un po' perché è un segno particolare. Prima però ti ricordo di lasciare i commenti qua sotto e scrivere nei commenti quello che pensi, come ritieni che che le cose siano andate a te. Dai il tuo contributo se tu ti sei, hai mai visto questi segni, hai mai avuto un uomo che hai ritenuto ti amasse o seppure hai preso delle fregature, scrivi nei commenti e lascia il tuo contributo. Inoltre ti chiedo di iscriverti a questo canale cliccando su tastini iscriviti e poi attivando la campanellina in modo tale da non perderti i video successivi. Quindi clicca su iscriviti. E poi se vuoi seguirmi sulla pagina Instagram, se è Instagram cerca Massimo Terramasco e mi trovo. Allora il quarto è un segno particolare che sembra che non abbia significato ma in realtà ha un suo significato. Cioè cerca di proteggerti tra virgolette a livello non verbale. Cosa vuol dire questo? Beh, vuol dire che ad esempio se attraversate la strada e le macchine arrivano in un senso lui si metterà dal senso in cui arrivano le macchine. se camminate su un marciapiede dove passano nelle macchine lui si metterà al lato esterno più esposto diciamo e lascerà te all'interno. Ecco cose di questo genere diciamo così metti in atto una sorta di protezione cavalleresca che sono piccoli segnali che però indicano che tiene a te e che ti adora quindi osserva queste cose perché se le fa spontaneamente significa che comunque ti ama e ti adora tra virgolette. Osserva questo tipo di segnale sembra piccolo ma in realtà è un segnale molto importante che dice veramente se un uomo ti ama se un uomo tiene a te fondamentalmente cioè una protezione non verbale ecco questo è il significato. Bene lascia quindi i commenti iscriviti al canale ripeto ci tengo molto a che tu ti iscrivi a questo canale quindi clicca sul tastino iscriviti poi attiva la campanella e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco ci vediamo al prossimo video ciao a tutti